Ben trovati, ben trovati a tutti, anche questa puntata di Insieme con la rassegna di bollettini periodici e giornali della provincia di Belluno. Abbiamo tra le mani in questa occasione CTG Rando del periodico del CTG, Centro Turistico, Bellunesi nel mondo e Dolomiti, riviste di cultura e attualità della provincia di Belluno. Diamo un'occhiata a CTG Rando, è un articolo che ricorda Don Lorenzo dell'Andrea, padre faro del CTG, qui vediamo una immagine in bianco e nero, luglio 1961 Don Lorenzo, che qui vediamo davanti al gruppo, con un gruppo CTG sul Pelmo. Il Centro Turistico Giovanile piange e ricorda con commozione Don Lorenzo dell'Andrea, a cui è legato da un filo lungo 65 anni. Era infatti il 1959 quando in una classe dell'allora ragioneria Calvi il giovane docente Don Lorenzo buttò là con fervore l'idea di creare anche a Belluno il CTG, un organismo dedito al turismo, alla cultura, all'ambiente e al tempo libero, già attivo in Italia dal 49, in seno alla gioventù italiana dell'azione cattolica. A quell'iniziativa aderirono subito 18 studenti che fecero muovere i primi passi della lunga storia dell'associazione, che ancora oggi è efficiente e dinamica. Sotto la guida spirituale di Don Lorenzo, quel nucleo di giovani ben presto si ingrandì e divenne una struttura organizzata che aveva come tenace passione la montagna. Era un grande cultore e un bravo escursionista Don Lorenzo, uno che sapeva prendere i giovani dal verso giusto e interessarli al bello. Ben presto entrarono a far parte della dirigenza gli storici presidenti Dodo Crespan, che ricoprì la carica per decenni, e Anacleto Boranga, tuttora al vertice del CTG. Nel giro di pochi anni l'associazione si espanse in gran parte della Val Belluna, spingendosi fino al centro e all'alto a Gordino, arrivando a interessare nel tempo molte migliaia di persone. Le attività turistiche in particolare hanno portato i bellunesi a viaggiare in ogni parte del mondo, ma anche a scoprire le bellezze dell'Italia. Pure il turismo fuori porta ha interessato il CTG, con varie escursioni culturali e ambientali, denominate sabati ambientali e Val Belluna estate. A complemento di queste sono stati organizzati corsi di storia locale e formati animatori culturali e ambientali. Questa, conclude Maria Zampieri che ha scritto l'articolo, è l'eredità che Don Lorenzo dell'Andrea lascia ai CTG, ma sono tanti altri bellunesi a cui questo polivalente sacerdote ha donato molto di sé. A partire dal suo ruolo di giornalista e forte comunicatore, che ha saputo utilizzare sempre con mansioni di primo piano tutti i mezzi che la moderna tecnologia gli metteva a disposizione, dalla carta stampata alla radio alla televisione alla rete. Aveva tante altre qualità, Don Lorenzo, tra le quali il suo essere attivo con l'unità, al sia la guida di tanti percorsi di fede per il mondo. Era studioso e conoscitore profondo della questione israelo-palestinese, tanto che recarsi in pellegrinaggio nella Terra Santa era un privilegio unico per chi vi partecipava. E poi altri nomi che hanno fatto la storia del CTG. Il periodico poi racconta delle iniziative appunto anche di questi prossimi mesi, segnalo solo dall'1 al 7 luglio interessante sulle orme di San Francesco. In occasione del 75esimo anniversario della nostra associazione, l'annuale iniziativa CTG è stata programmata una splendida iniziativa in Umbria, esperienza in Umbria, cuore verde dell'Italia, anche sulle orme e sui luoghi segnati dalla spiritualità di San Francesco, il cui messaggio è quanto mai vivo e attuale. Ecco questo CTG Gerando con un ricordo particolare di Don Lorenzo dell'Andrea. Bellunesi nel mondo, anche qui una veloce panoramica. Santi Vittore e Corona, i patroni di Feltre e patroni della diocese di Belluno-Feltre insieme a San Martino. L'articolo di apertura è di Dino Britta, mi soffermo solo in particolare su un passaggio qui verso la fine, nel quale si dice oggi si parla ad ogni pieso spinto della necessità di anteporre il noi all'io, anche nel caso della provincia di Belluno ci si deve convincere a vedere ogni problema con l'occhio del noi bellunesi, intesi come abitanti dell'intero territorio provinciale, abbandonando l'occhio dell'io, Feltrino, Cadorino, Alpagotto, Comelicese, Pezzano, Zoldano, Valbellunese e così via sino a scendere la realtà più circoscritte. Sarà banale dirlo, ma ricordiamoci sempre che l'unione fa la forza e i campanili al contrario sono ostacoli che rallentano la marcia e talvolta la bloccano. Campanili non riferiti a quelli della Chiesa ovviamente che invece che separare cercano di unire, di raccogliere le comunità, ma il campanilismo nel termine appunto in cui si usa comunemente. La storia di Marta Dalfarra, una bellunese tra Sudamenica e la Danimarca, una ragazza di 23 anni che ora studia all'Università di Copenaghen, Global Development all'Università di Copenaghen. Parla della sua appunto esperienza nella terra, della terra di questa città, molto particolare, molto attenta anche ai giovani e agli universitari, anche perché dice che la Danimarca, la Copenaghen ti permette di avere anche dei sussidi perché se studi a tempo pieno e lavori 40 ore minimo mensili, lo Stato ti dà una somma ogni mese come premio per il fatto che tu stai studiando e lavorando, con l'obiettivo che i giovani diventino l'indipendente al più presto. Ecco, unico aspetto un po' particolare è il meteo, infatti Marta ci racconta che il clima non è sempre dei migliori, addirittura ci sono 20 giorni di buio all'anno continuo ed è davvero difficile, però l'estate è molto bella, essendoci anche i canali tutti i ragazzi possono passare i pomeriggi lì in compagnia. Il sogno infine di Marta, il mio sogno sarebbe lavorare in un'azienda innanzitutto sostenibile, nello specifico nella nicchia dell'economia circolare, ovvero come creare risorse dagli scarti e qui in Danimarca le opportunità non mancano. Altri articoli poi, un cenno veloce, eccellenze sanitarie, risultato prestigioso per l'ospedale di Belluno. L'ospedale di Belluno è 59esimo nella classifica dei migliori nosocomi d'Italia, secondo la graduatoria realizzata da settimanale statunitense Newsweek, insieme alla piattaforma globale dei dati e intelligence aziendale statista fondata in Germania. È un risultato prestigioso, un ottimo risultato, secondo il Consiglio direttivo dell'Ordine Medici, Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Belluno, che in un comunicato si è detto compiaciuto del risultato ottenuto, sicuramente merito di tutti i professionisti che lavorano con dedizione e aggiornamento continuo e con il supporto della direzione strategica della ULS 1 Dolomiti. Soddisfatti? In un momento in cui prevalgono segnalazioni circa la percezione di cattivo funzionamento del sistema sanitario pubblico da parte di utenti e di operatori, la riflessione conclusiva dell'Ordine Professionale è che ci sentiamo soddisfatti di avere nella provincia di Belluno un ospedale e dei reparti di attestata eccellenza. Ecco poi altri articoli li lasciamo al vostro interesse. Non c'è più tempo a nostra disposizione che è inferiore questa settimana a quello consueto che ci è stato dato, Dolomiti e rivista di cultura attualità della provincia di Belluno sarà per un'altra occasione. A me non resta altro che ringraziarvi dell'attenzione e del tempo che ci avete dedicato e buon proseguimento con i nostri programmi. Grazie a tutti.